Ciao ragazzi, siamo i fratelli Soda, oggi siamo sul canale dei Game Grabbers Siamo qui per raccontarvi attraverso una storiella abbastanza carina Tutti i bug di Skate 3 Buona visione! Storia di John, un ragazzo come tanti che scopre una passione che vi cambiò la vita Quello dello skateboard Ogni mattina corro come un coglione sui tetti delle case Perché ho paura di perdere l'autobus Ma come al solito mi tocca aspettare 20 minuti alla fermata Nel frattempo mi vengono degli spasmi muscolari causati dal freddo Subito dopo per rilassarmi mi butto sullo schietto di schiena A volte insoddisfatto dei miei risultati Tento il suicidio in modi più fantasiosi possibili Questi sono innumerevoli tentativi di suicidio dovuti alla mia depressione Da buttarmi da palazzi A cadere sopra a barboni e a contadini Ma soprattutto a cadere di culo Mia mamma mi diceva sempre di rialzarmi in ogni difficoltà Ma non ero molto bravo in questo E spesso mi girava così tanto la testa che volevo scomparire dal mondo Ci riuscivo Nascondendomi dagli altri avevo ancora i miei soliti spasmi Molto particolari Un giorno riuscii quasi a trovare la morte ma mi ritrovai con lo skate che mi perforava il torace A volte può sembrare che non riesca nelle mie esibizioni Ma invece atterro in piedi come un gatto e dopo vado a scuola In città non mi amano molto per i danni che combino E per questo me la prendo facilmente con gli altri Facendo attentati involontari Una delle mie doti speciali è quella di incastrarmi E per liberarmi cerco di spiccare il volo Aspettando l'autobus di solito gioco a yo-yo con il mio skate Nel mio tempo libero gioco ad acchiapparello con i miei amici Ci prendiamo a panchinate E per estrematizzare provoco una rissa A volte a causa di galli di zucchero svengo ripetutamente Ed ho la sensazione di essere trascinato Mamma mi ripeteva sempre John, attenzione macchine Ma non mi aveva avvertito di prestare attenzione ai massi Ho appreso diversi poteri ultimamente Da attraversare i muri fino ad essere invisibili Ciao a tutti da John Ragazzi il video è finito Vi ricordiamo di iscrivervi nei commenti se è stato di vostro gradimento il video Di iscrivervi a GameGrabbers e di passare sul nostro canale Alla prossima, ciao!